Quelli che devono fare i piedi stanzi, si crea, cerchiamo di creare due file, se ci sono. Se non ci sono, devono fare con il popolo di Dio. Quindi, Salvatore Federico, con l'acroce, dai chi avanti. Salvatore Federico, con l'acroce, dai chi avanti. Quindi, subito dopo i ministranti e quelli con il piede stanzi, ci saremmo i sacerdoti. Quindi il comitato della festa, la vara della Madonna, dietro la vara l'amministrazione comunale con l'insegna del comune, il gonfalone, la banda musicale e quindi il popolo di Dio. Cerchiamo di mantenere un clima di raccoglimento e di preghiera. Sembra ogni volta devo ricordare che non è turismo religioso né passeggiata ecologica. Quindi, anche i sacerdoti diamo a senzio. C'è bisogno di fare tramite abbracci con il paio dopo. Mentre c'è la protezione si prega. Allora, quando il percorre siamo pronti possiamo andandare.